Sarà per l'amminarci in traio sto cazzo, ma se poi ne è subito come al solto, ne ha subito di tutto, questo è il problema. Però scusate, ragazzi, però scusate, lo sapevate che c'erano? Cioè, noi ne abbiamo uno con la testa da rotta, l'altro perché c'è un sigmo da tutta lì, ragazzi. Non lo so, vorrei vedere, vorrei vedere, vorrei vedere. C'è l'ambulanza. Grazie.